L'applauso con il quale gli oltre mille ospiti del movimento neoborbonico hanno salutato l'ingresso nel teatro mediterraneo di Carlo di Borbone e della famiglia reale Due Sicilie al completo testimonia l'affetto e l'emozione per gli aderenti al movimento presieduto da Gennaro de Crescenzo nei confronti di quelli che vengono definiti simboli viventi di una storia antica e gloriosa. Festa, premiazioni e ricordi nella serata organizzata nella struttura all'interno della mosso d'ultrimare per festeggiare il quarto di secolo di un movimento che in questi anni è diventato punto di riferimento per il meridione nel mondo. Siamo felici di poter sostenere l'anniversario del venticiquesimo del movimento neoborbonico ma stiamo a coincidere anche con i nostri vent'anni di matrimonio. Grazie al movimento neoborbonico c'è stato in quest'ultimo quarto di secolo si è potuto effettuare una rilettura della storia del meridione e devo dire che è una cosa che ne parlo sempre, io le ho conosciute nell'aprile 1993 mi avevano presentato quel loro progetto e pochi mesi dopo fondarono questa associazione, questo movimento e devo ringraziarli perché tramite archivi hanno fatto una ricerca incredibile e sono riuscita a ridare una dignità al popolo meridionale e anche alle loro terre. Sul palco si sono avvicendati Povia e di Napoli, Nello Daniele e Paolo Cagliazzo insieme a tantissimi premiati. Durante la tre giorni napoletana, numerosi appuntamenti per la famiglia reale nel pomeriggio di domenica hanno anche voluto dedicarsi un momento di eleganza visitando la Maison Cilento accolti da Ugo Cilento nello showroom della riviera di Chiaia ed hanno potuto ammirare le creazioni per la regia di Caserta di cui Cilento è diventato esclusivista.